Gravissimo incidente stradale questo pomeriggio al Sacro Cuore, nella zona nord di Prato. Uno scooterista di 53 anni, Pompeo Giordano, è stato travolto da un'auto pirata all'incrocio tra Via Sangro e Via Serchio. Nonostante i disperati tentativi di rianimazione dei soccorritori, l'uomo è morto. Il mezzo investitore, che avrebbe bucato lo stop e preso contromano la strada, si è allontanato senza fermarsi a prestare soccorso. Secondo alcune testimonianze, si tratterebbe di un'operestation wagon grigia, della quale è stata presa la targa. Alla guida ci sarebbe stato un orientale. L'auto investitrice sarebbe scappata contromano in Via Sangro, inseguita da un testimone che poi ha fornito alla municipale informazioni utili per il rintraccio. E infatti, poco dopo, in collaborazione con i carabinieri, gli agenti di Piazza dei Macelli hanno fermato un sospetto. Si tratta di un cinese di 35 anni che è sotto interrogatorio dal pomeriggio. Tra l'altro, l'auto, corrispondente a quella descritta dai testimoni e con evidenti segni dell'incidente sulla carrozzeria, è stata trovata all'interno di un'officina della zona, gestita da un connazionale del conducente. Una circostanza troppo sospetta per essere una semplice coincidenza. A pochi minuti dall'incidente, quindi, il pirata della strada avrebbe avuto la freddezza di provvedere subito a far sparire segni del violento urto dalla propria auto, ma chi lo ha inseguito è stato più veloce di lui.